E' ora? chi la tira su un cavalletto no no stai tranquillo si è incastrato un cavalletto su una radice la seconda grazie lascia, lascia in, lascia in seconda lascia in, lascia in, lascia in seconda ma quasi la quota bravo si perchè mi ricordava quello che facciamo giù io ho fatto seconda non andava bene voleva la terra